Un grave lutto ridimensiona l'euforia di un giorno importante, per il Cagliari, con la Sardegna Arena che oggi compie un anno. Il dramma è accaduto in Polonia. Il sito del club dove il calciatore militava, lo Starzest Zov. Il Cagliari calcio, profondamente addolorato dalla tragica notizia, si stringe con affetto attorno ai familiari del giovane Cristian Popiela, scomparso ad appena 20 anni. Popiela arrivò in Sardegna a 17 anni debuttando in primavera nel gennaio 2016. Attaccante centrale forte fisicamente, giocò 10 partite dando il suo importante contributo alla conquista dei play-off, proseguendo poi la carriera nella sua Polonia. Sempre sorridente, si legge ancora nel comunicato stampa diffuso dal Cagliari calcio durante la permanenza in Sardegna seppe conquistare l'affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti. Ciao. Cristian si legge nella nota pubblicata dal club Sardo. Il ragazzo era arrivato in Sardegna a soli 17 anni e aveva debuttato in primavera nel gennaio del 2016. Punto sempre sorridente, durante la permanenza seppe conquistare l'affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti, prosegue la nota. che si chiude con un saluto semplice, ma profondamente sentito. Ciao. Cristian. Le dinamiche dell'incidente. Stando a quanto riportano i media polacchi, Popiela avrebbe perso il controllo dell'auto in una curva. L'impatto ha piegato la resistenza delle protezioni del bordo stradale e la vettura è precipitata. Punto con la maglia del Wisla Ploch, nella passata stagione Popiela era riuscito a giocare due partite nella massima divisione polacca mentre non aveva ancora debuttato in quella cominciata lo scorso luglio. L'ex giovane attaccante della primavera Rosso-Blu è deceduto nella giornata di domenica a seguito di un brutto incidente automobilistico avvenuto in Polonia, precisamente sull'autostrada A4, in località Volavia Elka, vicino a Debica. .